allora diciamo per la data del tour ma quale tour? il tour che faremo? ma vabbè faremo nel senso che eri ottimista ma non è che c'è adesso non c'è un'imminenza non c'è un'imminenza, non c'è un'imminenza però vi dico sarebbe bello iniziare con qualcosa di più dotto perché noi siamo nel pop nella musica romantica nella musica diciamo tradizionale poi ce la caviamo ci manca un brano dotto un brano di musica non so dotto c'è musica classica ecco un classico ci andrebbe un classico della walt disney una cosa cosa può essere ah tipo quelle cose tipo anche te rosco deve essere la tosca che inizia ma non è di Beethoven sta facendo confusione ma lasci perdere comunque dammi una nota come fosse una corale sembra il traghetto che arriva alle oglie come va dai vai 3 4 si 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 Buona Pasqua